Salve amici del Centrometro Italiano, nuvole e piogge sparse nei prossimi giorni in Italia. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per mercoledì 22 maggio. Locali piogge al mattino su Fiuli, Veneto, Liguria e Toscana, nubi sparse e schiarite altrove con tempo asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi al centro nord, più intensi sulle Alpi Appennino e più asciutto al nord-ovest e lungo le coste. In serata e nottata residui piogge su pianura padana e zone interne del centro, nuvolosità in transito altrove ma con tempo asciutto, temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.